Il tuo nome? Il mio nome è Gianluca, della ditta Far. Ok, che è un'impresa che produce cosa? Produciamo prevalentemente serbatoi per il discorso del riscaldamento, ma anche per la filtrazione industriale e lavaggio industriale. Produzione rivolta all'Italia o all'estero? Prevalentemente all'estero. In che percentuale? 60% direttamente, la restante quota è comunque una subfornitura verso i nostri clienti che comunque esportano il loro prodotto fidale. Quindi diciamo prevalentemente per l'estero. Esatto. Grazie. Grazie. Grazie.